Ciao, ancora un altro video nella serie su Unreal Engine. Cerco di fare dei video che stiano in piedi da soli, però vi invito a guardarli magari un po' tutti quanti e soprattutto di seguito, perché alla fin fine, messi tutti quanti uno dopo l'altro, diventano una specie di piccolo minicorso sulle basi proprio di Unreal Engine. Non tanto per la parte di gioco, che è davvero complessa, di creazione di un gioco, ma nella parte di creazione di mondi tridimensionali, magari per chi come me può essere interessato a creare poi delle illustrazioni a partire da questi. Allora, quando voi partite con il launcher di Epic Games, avete la vostra biblioteca con, abbiamo visto, le versioni del motore installate e potete far partire da qui i vostri progetti già creati. Quindi io adesso riparto da un progetto che ho creato nei precedenti video che vi invito ad andare a riguardare. Ecco qui, si riapre in una certa mappa di default. Non è per forza magari quella che avete aperto la volta scorsa. L'abbiamo in ogni caso salvata, quella della volta scorsa, ed è qui, quindi si può farci doppio clic e riaprirla. A volte possono apparirvi dei messaggi qui di qualche errore e potete, diciamo, tranquillamente ignorarli per come ci dobbiamo comportare adesso. Quindi ecco, questa per esempio era la scena nei video precedenti nei quali vi ho spiegato alcune delle cose sull'illuminazione. Oggi invece vediamo come utilizzare degli oggetti già pronti perché Unreal Engine ha tutta una libreria di oggetti già pronti che possono essere molto molto comodi. Per praticità e a livello di ripasso creo un nuovo livello da zero e per ora non gli do un nome, lo salvo, ci faccio doppio clic ed è poco qua, è vuoto. Faccio quello che avevamo già fatto la volta scorsa ed ecco qua, così, molto velocemente, ho un nuovo livello. Ci sono vari modi per trovare degli oggetti già pronti. Uno di questi è Bridge, Quixel Bridge. Eccolo qui, è già disponibile, diciamo, nel menu Window e apre una finestra apposita che ci permette di accedere a tutta una serie di contenuti per i quali però bisogna essere loggati con il proprio account di Epic Games. Una volta fatto l'accesso, questa finestra può essere anche ingrandita, insomma, qui si può cercare tutta una serie di asset. Sono divisi per categoria e quindi vedete, per esempio, già qui di Old Workshop, Arctic, Contemporary Surfaces. Altrimenti ci sono anche queste icone. In particolare questa è comoda perché vi permette di trovare gli elementi che potreste aver già scaricato. Quindi se non volete scaricare qualcosa di nuovo, venite qui e trovate le cose che avete già scaricato. Vedete, local. Altrimenti questo mondo vi permette di scaricarne di nuove. Sono divise in categorie, per esempio sotto Environment, Ambienti, vedete c'è storico, industriale, si può anche utilizzare il cerca e vedete, essendo già in un certo ambiente, ho già questa parte di ricerca. Altrimenti semplicemente si può fare browsing e guardare tutti questi elementi che ci sono qua sotto. Cerchiamo di costruire qualcosa di sensato. Per esempio nella cartella Environment, Historic, Castle Ruins, come vedete ci sono varie cose che riguardano rovine di un castello. Allora, queste qui rappresentate da una palla, sono dei materiali, mentre invece questi che proprio si vede che hanno una forma tridimensionale sono degli oggetti 3D. Sono mischiati in questo momento. C'è il modo anche di filtrarli, per esempio con questo tastino qua del filtro potrei scegliere di vedere solo gli oggetti 3D, 3D Assets, e vedete, appaiono solo gli oggetti 3D. Quindi, se mi interessasse cominciare con, quindi vedete questi sono muri, muretti, se ho trovato qualcosa che mi piace, diciamo, cliccandolo, qui appaiono tutta una serie di informazioni ed è possibile scaricarli dopo appunto aver fatto l'accesso, sign in, e quindi se vedete il tasto sign in qua sotto dovete ancora fare l'accesso. Una volta effettuato l'accesso, invece, qua giù c'è il tasto download. Prima di scaricare, volendo, qua potete scegliere la qualità. Se scegliete Nanite è la qualità più alta possibile, però ovviamente occupa più spazio disco e ci vuole più tempo per scaricare. Io adesso scaricherò a qualità media. E quindi se adesso volessi scaricare appunto questo oggetto, faccio download. Un modo più veloce è premere questo tastino qua sopra, e vedete, cominciano a essere scaricati e c'è anche il tempo di avanzamento e quindi in questo modo si possono scaricare tutti questi elementi. Adesso ne scarico un po'. Mentre scarica nuovi oggetti, quelli arrivati, vedete, hanno la spunta e adesso se mi recco qui, per esempio sotto local, vedete che già ho la possibilità di selezionare dei 3D asset e li trovo già qui. Altrimenti comunque potevo, diciamo, usarli dalla finestra che vedevamo prima. Adesso ognuno di questi non ha più il tasto download, ma ha downloaded e possiamo premere add. Se premo add, ecco che lo intuisco anche qua sotto perché mi ha anche portato in questa cartella, viene aggiunto e tra l'altro vedete anche la freccina qua su, è diventato non più scarica ma esporta, quindi anche qui posso cliccarlo direttamente da qui o invece che usarlo da qui e viene portato nel mio progetto. Nel mio progetto, adesso, mentre magari scarica le altre, riduca icona questa finestra e vedete qui nel vostro progetto, nella cartella content, noi avevamo la cartella miei livelli, con i livelli, adesso c'è questa cartella Megascans che è divisa appunto in 3D assets, nel senso di oggetti 3D e ci sono questi tre elementi e potete notare che ci sono diverse cose dentro, ma guardate, questa è una Material Instance ed ha questa barretta verde, questa è una Static Mesh, queste sono tre texture, cioè sono tutte cose che servono all'oggetto, in particolare c'è l'oggetto vero e proprio, il suo materiale e le texture che lo compongono. A noi basta in realtà l'oggetto, quindi questa qui, Static Mesh, se noi la trasciniamo in scena è esattamente come abbiamo fatto per gli oggetti semplici di prima, quindi per esempio posso resettarne la posizione e adesso in scena ho questo oggetto qui portato dentro alla qualità alla quale l'avevo scaricato e ovviamente posso portare anche gli altri e piano piano costruire la mia scena, quindi li prendo da qui e li porto nella scena. Se guardate anche gli altri video sapete come procedere per eventualmente utilizzarli facendo scala, ruota e anche duplica e tutto quanto, quindi con questi pezzi già pronti diciamo si può cominciare a costruire anche degli ambienti già più ricchi. In teoria sono in scala tra di loro questi oggetti, quindi andrebbero usati senza scalarli, cioè se siete del tutto liberi di farlo, appunto è una questione di quello che volete fare voi, insomma tenete conto che normalmente dovrebbero essere tra di loro in scala e quindi se rispettate la scala prevista le scene sono più diciamo realistiche e io in questo caso invece ho ingrandito di molto questa parte del pavimento semplicemente per poter ricoprire uno spazio più ampio. Può essere interessante a volte unire certi oggetti in gruppi, quindi per esempio queste tre rocce che sono tutte assieme si possono raggruppare con CTRL G, vedete io adesso ho fatto tasto destro, CTRL G, potevo farlo anche sulla scena e adesso quindi queste sono un gruppo e quindi quando ci clicco sopra le clicco e le trovo sempre come gruppo. Posso comunque duplicarle per intero come gruppo e quindi continuare a utilizzarle in questo modo diciamo a gruppetti. Poi posso aprire un gruppo, si può scegliere sotto gruppo c'è UNGROUP che è maiuscolo G, quindi anche in scena posso usare maiuscolo G e viene tolto il gruppo e quindi ho di nuovo a disposizione gli elementi singoli. Con un po' di pazienza che utilizzando tutta una serie di pezzi pronti si riesce a creare diciamo delle situazioni anche molto complesse. Alla fine pezzetto dopo pezzetto una cosa anche grande non è fatta nient'altro che da tutta una serie di cose più piccole. Anche i materiali sono appunto utili sotto Environment, Historic, Castle Ruins. Ci sono degli altri materiali che quindi magari vanno d'accordo con le stesse cose che ho e di conseguenza magari scarico questo materiale e quest'altro. Qual è il vantaggio dei materiali? Che posso assegnarli a degli oggetti di quelli che abbiamo usato nelle lezioni precedenti. Quindi come si fa ad utilizzare un materiale? Dopo averlo scaricato e anche per i materiali è possibile scegliere delle qualità diverse, però io in questo caso ho sempre scelto Medium, una volta scaricato allo stesso modo può essere esportato dentro al nostro progetto. Quindi o con questo tasto Add una volta che ci ho cliccato oppure molto più facilmente con questa freccina. e potete notare di nuovo nel mio progetto che se qui erano stati messi tutti i 3D asset, ecco qua, qui ci sono le surfaces, quindi i materiali, le superfici. Allora, come vedete somigliano molto a quello che c'è qui ma senza l'oggetto, questo qui con questo color azzurro chiaro. Qui c'è solo il materiale ed è questo verde. Quindi io devo creare sulla scena un oggetto, quindi se tornate al video nel quale abbiamo parlato degli oggetti, per esempio metto un cubo sulla scena e lo posiziono. Se tornate all'altro video nel quale abbiamo parlato delle forme base, abbiamo visto anche come crearle, come posizionarle e sapete anche insomma tutta la questione degli snap per riuscire a posizionare con maggior precisione gli oggetti. Vi invito a riguardare quel video. Il materiale, una volta che avete un oggetto sulla scena, è sufficiente trascinare il materiale sopra all'oggetto. Ed ecco qui che quell'oggetto avrà quel materiale. Ovviamente adesso la dimensione, diciamo, di questo materiale dipende dalle dimensioni dell'oggetto. Cioè io ho ingrandito questo cubo e se adesso prendessi quest'altro materiale del muro, lo metto qua, è un po' troppo grande rispetto agli altri muri che ci sono, però se io vado appunto ad aumentare le dimensioni del mio cubo aumentano anche le dimensioni dei mattoni. Vedremo in un apposito video che riguarda solo i materiali su come andare a modificare un materiale esistente in modo tale che sia appunto corrispondente a quello che vogliamo. Per ora, quello che mi limito a fare qui è eventualmente a raddoppiare e moltiplicare il numero di oggetti in maniera tale che possa tenere il cubo delle dimensioni che voglio, diciamo. E quindi ecco che posso ottenere diverse forme che non sono quelle previste dagli oggetti pronti, ma posso utilizzare quelli appunto base di Unreal andando a metterci i materiali che li fanno appartenere meglio alla scena. Ecco quindi che utilizzando un po' di forme già pronte con dei materiali e un po' di oggetti veri e propri 3D ho creato una situazione insomma che è molto molto complessa con questi elementi già pronti senza dovermi preoccupare praticamente di molto di più che trascinare sulla scena e posizionare degli oggetti insomma. E ora ho a disposizione tutte le cose che abbiamo visto l'altra volta per poter eventualmente variare la luce. Vi dico un'altra cosa c'è una scorciatoia che si chiama CTRL L che ci permette di manipolare la luce del sole quindi in modo veloce invece di andare a selezionare la Directional Light voi potete fare CTRL L e muovere il mouse e cercare quindi la miglior illuminazione per quello che volete quindi diciamo che come vedete muovendo il mouse riesco a muovere il sole e potete trovare quello che state cercando altrimenti appunto come detto andate a cercare la luce in questione e potete utilizzare i soliti comandi insomma di rotazione normali però a volte questa scorciatoia CTRL L può risultare un po' più semplice da utilizzare. Grazie e alla prossima!